Musica Anche la realtà san giustese non si è sottratta ad un appuntamento importante sentito, che domenica 25 febbraio ha coinvolto il mondo agricolo cittadino. Si tratta della festa del ringraziamento, la quale nell'edizione 2024 ha visto l'organizzazione curata dal municipio in piena collaborazione con l'Associazione Coltivatori di San Giusto Canavese. Alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, con in testa la prima cittadina Giosi Boggio e l'assessore all'agricoltura Michele Mennuni, nonché grazie al prezioso lavoro del gruppo di protezione civile che si è occupata della viabilità e della sicurezza. L'evento si è parto a metà mattinata con il ritrovo nei pressi del Salone Gioannini. Quindi, accompagnati dalle note dei musici della filarmonica locale, i partecipanti hanno dato vita ad una sfilata per le vie del paese, per tornare quindi alla base e prendere parte alla Santa Messa, caratterizzata anche dall'offerta dei doni della terra. A seguire l'immancabile è stata la benedizione delle macchine agricole, mentre a mettere la parola fine a una giornata che è stata salutata anche da un tiepido sole, ci ha pensato il gustoso momento conviviale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.